non l'ho capito come l'hanno fatta questa ragazzina buongiorno oggi un saluto da la cagnoletta bedda della caluzetta della caluzza luce la caluzza la fiorellini sono oggi affaccendato nelle faccende domestiche oggi è una buona giornata oggi è un giorno del futuro quante cose abbiamo sentito quante cose abbiamo sentito oggi è il giorno i fanciulli gli adolescenti i bambini quante ne abbiamo sentito ora me ne ricordo qualcuno i bambini sono il futuro quindi diamogli la colpa a loro la teoria quella di Tupac che i bambini sono riempiti già di odio solo un po' solo odio i figli i bambini sono mi hanno detto di chi li cresce magari erano puddace detiene sequestro di anche nei sequestri fanno così ti danno da mangiare i bambini i bambini del mondo figli uno li mette al nuovo se manco alcuni manco sono potuti nascere bambini figli sono pezzi e core ora facciamo una cseppa un pezzi un pezzi un pezzi un pezzi un pezzi i diritti dei bambini i rovesci niente come se fossero solo che sono calzini i a fare danno sono proprio i genitori dei figli i primi i primi i bambini vengono prima di tutto danneggiati da i propri genitori i propri figli dei propri genitori danneggiano i propri figli con le loro scelte le loro imposizioni dipende non è che per forza per tutta la vita devono rimanere in quella i bambini sono cattivissimi i bambini sempre colpa loro ci sono bambini che e tu adulto non riesci a farli capire un po' niente quando entrano bambini in una famiglia arrivano dei bambini è tutto più bello una volta l'anno quando Berlusconi gli fa una volta bambini guai a chi li tocca dentro un'ampolla una campana una cupola guai a chi li tocca i bambini devono poter fare quello che vogliono anche scrivere nei muri nelle porte dove vogliono non importa l'importante è che siano liberi 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 anche balconi finestre porte non le chiudete dove vanno arrivano arrivano ora non me ne ricordo altre però che insomma poi ve li scrivo sotto poi cioè io a me già tre ah ah non lo sono ricordato com'era bisogna fare tanti figli tanti bambini tanti figli perché perché uno se ne va in guerra uno lo perdi per strada uno se ne va con la madre l'altro si sposa un altro decide di cambiare vita cambiare posto e quindi bisogna fare tanti in maniera che te ne resta qualcuno intensivo così in allevamento intensivo fate una decina e li mandate due tre li mandate già a lavorare da piccoli che imparano subito questi bambini imparano tutto immediatamente uno gli insegna una cosa e già la sanno fare immediatamente sanno fare tutto tutto che cosa scusa ma che cosa gli stai insegnando sti cazzo di bambini i bambini una fantasia pazzesca i poteri speciali quasi riescono ad accendere le cose con la loro fantasia riescono a fare le cose anche quello che loro pensano gli adulti lo fanno non è colpa degli adulti sono i bambini hanno una fantasia i bambini devono essere subito subito puniti immediatamente subito insegnati da piccoli perché sennò chissà che brutta pega prendono poi se avete sbagliato magari ci sono altre ideologie altre idee migliori i bambini meglio uno meglio concentrato uno così uno tipo voodoo può bene a ziccare tutte le cose come passano lo straccio i bambini no questo è un terreno non me ne ricordo altro in questo momento ne vengono altri comunque diceva a me già siete quota 3 che mi avete picchiato formato il bene almeno che io sappiamo che questo è tutto quel che è un diventito bimbi minchia bimbi minchia devono stare tutti come Gesù bambino tutti uguali tutti la con l'asinello con leone la povertà perché solo così vedranno poi i bambini vanno nutriti nutriti devono fare una scu una scu via devono fare il botto poi assendo boom i bambini i bambini devono studiare bisogna studiare perché solo studiando si possono fare certe cose i soldi le cose belle i bambini vanno insegnati quali sono le cose belle i bambini sono delle mamme solo so loro mammoni 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 i bambini i bambini alcuni bambini sono figli di papà canciamus papa comularia rafness uno ionno canend sietta comam ness certi bambini certi bambini certi bambini certi bambini polluzioni 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 non hanno visto niente polluzioni i maschietti e le femminucce i bambini i bambini i bambini pur il trotto ci ha azzeccato un po' piegato dalla vita però bambini bravi no questo però tipico dei bambini bambini voglio bene papà che bello giocare con guardare cartoni che gioia dipingere i pennarelli e mettere assieme i pulsori più belli ma il momento magico oggi sarà quando ritorni a casa tu oggi papà separato e bambini e bambini infatti ci sono delle sfumature nella vita vedi bambini stoltizzati gaslightizzati bambini vessati amati ma non per amare la guerra dei bambini i picciritti i guagliù città città marmocchietti come cazzo li chiamano bambini bambini per quelli un po' più grandi questa i bambini quelli proprio bambini che che ci fanno vero tempo dei tempi così